Lo sviluppo all'estero delle banche impone l'attenzione al tema dei viaggi del personale. Come proteggerli? Quali elementi di sicurezza bisogna tener presente? La sicurezza dei dipendenti all'estero è un problema che si pone sempre di più con l'internazionalizzazione delle attività anche bancarie. E' quindi necessario anche alla luce del dettato del decreto legislativo 81 proteggere il personale che viaggia sia perché è destinato per missioni di lunga durata sia per brevi trasferte, proteggerlo tenendo conto delle necessità di formarlo e di informarlo così come il legislatore prescrive, attraverso un programma che si va consolidando all'interno dell'organizzazione di security della banca e che è fondato su sostanzialmente due grandi perni. Il primo è una formazione di base che può essere erogata a tutti i dipendenti sia con un corso direttamente online o cartaceo o in aula sui quali vengono soprattutto formati sui concetti di base di sicurezza, come ci si muove fuori dal proprio ambito, quali sono i comportamenti da assumere per mantenere sempre una condizione di sicurezza intorno a sé. E' una seconda fase di informazione che è mirata al paese o alla località specifica di destinazione. In questa seconda fase l'azienda, la banca, fornisce, deve fornire al dipendente degli elementi precisi che siano in grado di dargli delle notizie sulle condizioni sociali, politiche, economiche e in particolare sui rischi ai quali potrà essere esposto. Parallelamente la banca avrà condotto un assessment di rischio, una valutazione di quali sono i rischi ai quali potrà essere esposto il suo dipendente e avrà preso delle iniziative per proteggerlo. Nell'occasione il dipendente quindi dovrà essere anche informato su quali sono queste iniziative, quali sono le contromisure adottate per proteggerlo e quali sono i comportamenti che la banca gli richiede per poter partecipare a questo concetto di sicurezza condivisa che è molto importante, parta direttamente dal comportamento di ciascuno di noi, prima ancora che del datore e lavoro. Quindi dobbiamo acquisire questo punto fondamentale, che la sicurezza si ottiene soltanto con una compartecipazione. Da un lato le iniziative prese dalla banca o dall'azienda e dall'altra il comportamento adeguato tenuto dal dipendente. Qual è il livello di attenzione a questo concetto? Attualmente devo dire che il livello di attenzione non è adeguato a quello che è il dettato normativo. Spesso per sottovalutazione dei rischi ai quali si può essere esposti in paesi esteri vengono prese delle iniziative innanzitutto non tracciabili e non documentabili e molte volte viene lasciata all'iniziativa dell'individuo singolo l'adozione di contromisure che non sempre sono adeguate. Devo segnalare peraltro che proprio negli ultimi tempi la sensibilità sta crescendo in maniera esponenziale e molte banche cominciano a porsi il problema e quindi si chiedono come potersi organizzare e correttamente, come primo riferimento, acquisiscono il Ministero degli Esteri che fornisce un'informazione precisa sempre sul suo sito Viaggiare Sicuri. È importante anche rivolgersi a persone che hanno esperienze in questo campo il vostro supporto alle banche come si concretizza? Sì, il nostro supporto alle banche si concretizza a due livelli a livello organizzativo nell'organizzare un sistema di travel security innanzitutto con la redazione di norme interne che vanno a inquadrarsi nel sistema normativo della banca e che rispondendo ai concetti di rispondenza alle norme vigenti e nello stesso tempo di etica pongono la banca in condizione di avere un suo sistema disciplinare se vogliamo che regola questa attività e quindi andiamo a costruire un sistema di travel security In un secondo momento, più attuativo forniamo alle banche delle schede per ciascun paese del mondo nel quale vengono evidenziati i rischi ai quali possono essere esposti i dipendenti e in questo modo il datore di lavoro è messo nelle condizioni di decidere se inviare o meno il dipendente Al passo successivo, una volta deciso di inviare il dipendente vengono prodotti delle schede che noi chiamiamo travel guide che vengono distribuite al dipendente nel quale in poche pagine viene riassunta qual è la situazione del paese in maniera che sia adeguatamente informato e vengono inserite in questa scheda a richiesta della banca quali sono i comportamenti che la banca richiede o prescrive In terza fase, una volta che il dipendente parte siamo in grado di seguirlo e quindi di assisterlo anche per eventualmente le necessità di evacuazione urgente dal paese in condizioni di sicurezza Quindi un quadro completo che assiste l'azienda nei confronti di queste normative da rispettare